ho comprato un incisore laser e voglio condividere la mia passione con un gruppo di amici vediamo cosa trovo incisioni e taglio laser con light bar e non solo iscriviti wow è questo lo trovate nel primo commento e nella descrizione andate a cliccare sul link ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi voglio pubblicizzare un gruppo facebook che riguarda incisori laser incisori laser e light bar ma non solo infatti il gruppo si chiama incisioni e taglio laser con light bar e non solo perché è un gruppo che deve riunire raggruppare degli amici un gruppo di amici che condividono la stessa passione che sia quella dell'incisione laser con il diodo che sia con il co2 che sia un incisione laser a fibra tutti i tipi di incisioni laser in quel gruppo sono benvenuti come sarete benvenuti tutti quelli che vi volete scrivere perché in questo gruppo a differenza di tanti altri che ne ho visti su facebook per carità validi dei gruppi che funzionano bene oddio tranne qualcuno che lasciamo perdere comunque ci sono dei gruppi che effettivamente funzionano bene però hanno delle regole che giustamente hanno deciso di impostare che per certi versi potrebbero risultare restrittive per esempio in alcuni non si può vendere in altri non si può parlare di software differenti eccetera qua invece sto lasciando un pochettino più di campo libero sempre però rispettando le regole del buon senso le regole di facebook insomma soprattutto la legge italiana quindi no pirateria solo software originali e tutto quello che si può fare nei social network quindi un gruppo che è nato da pochissimi giorni già raggiunto un buon numero di iscritti se anche voi avete la passione dell'incisione laser riscrivetevi perché la potete chiedere potete fornire informazioni potete condividere delle vostre realizzazioni sia sotto forma di file replicabile che sotto formato in fotografia di video avere la passione dell'incisione laser avere anche un gruppo dove sta aiutando pure il mio amico sebastiano per me è una grande soddisfazione ed è un piacere vederlo crescere quindi se siete anche voi appassionati di incisione laser andate di iscrivervi questo gruppo nel quale appunto ci possiamo divertire possiamo condividere recensioni anche di altre persone possiamo condividere dei link di acquisto del trono delle offerte però attenzione gli spam se trovo qualcuno che spam in coordinazione link di affiliazione ovviamente verrà moderato si possono condividere offerte si può condividere di tutto tutto quello che si vuole perché questo gruppo nasce con l'intenzione di creare un punto d'incontro che deve essere piacevole da frequentare si deve stare bene là dentro e se avere il piacere di frequentare un gruppo nel quale ci trova si si trova gente all'interno che condivide la vostra stessa passione quindi vi aspetto lì andate ad iscrivervi numerosi e soprattutto commentate pubblicate e fatemi vedere quello che avete realizzato ci vediamo nel gruppo ciao ragazzi